benvenuti da one pc massimo esperti questo nuovo video teoria oggi parleremo di un personaggio che svolge sta svolgendo e ha svolto un ruolo molto importante ai fini della trama anzi direi fondamentale ci riferiamo a trafarga al d waterloo anche noto semplicemente come trafarga allo è il capitano nonché medico dei pirati hearts ma è anche uno dei pirati della peggior generazione in passato lui è stato un membro della flotta dei sette ma anche parte della shul di do flamingo però adesso facciamo un passo indietro andiamo ad approfondire e analizzare il suo ruolo i one piece da come l'abbiamo conosciuto la prima volta il chirurgo della morte lo conosciamo per la prima volta alle sabaudi nell'arcipelago lì dove si riuniscono tutte le supernova lo raggiunse la casa d'aste dove incontrò kid e rufi nel momento in cui vide quest'ultimo cioè capitano de mugiwara colpire con un pugno incredibile scena memorabile un drago celeste un nobile mondiale e ne rimase compiaciuto da tale azione che era molto sconsiderata intuì così quello che era il potenziale di cappello di paglia successivamente passiamo agli avvenimenti di marineford lo osserva quasi tutta la guerra per la supremazia dall'arcipelago sabaudi subito dopo però c'è un'interruzione delle trasmissioni e quindi lui ordina la sua ciurma di prepararsi a salpare e si rega proprio lì sul campo di battaglia dato che rufi era gravemente ferito sappiamo che era svenuto e quindi subì gli attacchi di acaino in un secondo momento l'ammira l'allora ammiraglio acaino che adesso è un grande ammiraglio lo si fece consegnare da baghi rufi in modo tale che potesse curarlo in modo efficace perché perché lui è un medico insieme a rufi indispensabile naturalmente salva anche jimbe cavaliere del mare questo avvenimento non fu dettato al caso bensì fu dettato dal destino della di naturalmente anche dalla trama perché lo è stato fondamentale per lo svolgimento della trama e per salvare quello che protagonista naturalmente successivamente lo lascia in buone mani rufi cioè via da mazzollini c'erano boa c'era gimbe c'era relli però è importante una conferma successiva infatti mentre si allontanava dall'isola commentava il fatto che di sicuro la di in futuro avrebbe causato nuovamente dei disordini e il caos naturalmente loro non è stato fermo durante due anni infatti sappiamo che ci sono stati degli avvenimenti appunto durante i due anni di time skip che lo ha messo in atto aveva già iniziato a tessere le fila del suo piano infatti lui fu il responsabile dell'incidente di rocky port dove inviò cento cuori di pirati al quartier generale della marina come prova della sua abilità diventando così un membro della flotta dei sette passiamo ora a punk hazard lì rufi è molto felice e sorpreso nel vedere lo gli esprime la sua gratitudine per averlo salvato due anni prima ma le cose si fanno molto interessanti quando lo propone un'alleanza a rufi finalizzata nella sconfitta nell'abbattimento di uno dei quattro imperatori ci riferiamo a caido lo aveva già una strategia in mente rufi accetta sin da subito con l'unica tra virgolette clausola di lasciare scienzi rosso per ultimo questo perché rufi è intenzionato a sconfiggere tutti e quattro gli imperatori diventando così il re dei pirati passiamo avanti lo ingaggia una battaglia molto forte contro vergo uno degli uomini di punta di doffi nonché infiltrato nella marina e vice ammiraglio nonostante ciò lo riesce a uscire vincitore da tale duello ma non senza l'aiuto di smoker quindi anche grazie all'aiuto di smoker lo riesce a vincere sconfiggendo vergo completando così il suo piano e addirittura tagliando e distruggendo a metà l'isola e laboratorio di cesar clown e questo rappresentò una prima grandissima interferenza nei piani dell'imperatore kaido in riferimento a ciò c'è una frase incredibile di trafargallo che dice adesso ho rotto gli ingranaggi e nulla potrà tornare come prima vi fa capire ancora di più questa frase come lo sia fondamentale per la trama perché lui ha rotto gli ingranaggi all'interno della narrazione vum sottolineando sempre la questione del piano la ciuma di rufi parte e porta con sé lo kinemon e momonosuke il chirurgo della morte spiega a tutti che in quel momento preciso era ancora impensabile potesse avvicinare a kaido per questo lui aveva messo in atto e stava mettendo in atto un piano che voleva andare ad indebolire i sottoposti dell'imperatore come quello di interrompere il rifornimento degli smile contemporaneamente privare l'imperatore kaido di un alleato molto valido ci riferiamo a do flamingo raggiunta tres rosa il piano di lo subisce qualche modifica anche a causa di un terzo incomodo ci riferiamo alla marina ma ci furono anche altre variabili di fatti parte della ciuma di mugiwara fu costretta ad andare via in anticipo questo perché erano inseguiti dei pirati di big mo comunque nello scontro decisivo con do flamingo lo riuscì a causargli diversi danni significativi ma comunque il demone celeste gli rimaneva superiore di infatti fu rufi a salvare in tempo lo da una fine ormai certa scontro vinto poi da rufi in ghia fort come bene sappiamo ma che ha visto comunque lo a livello di supporto molto importante ricordiamoci bene il gamma knife un'altra scena importante è quando rufi batte do flamingo infatti durante tale sconfitta lo ripensa alle parole di corazon alcuni chiamano il clan della di la nemesi degli dei molto importante anche il fatto che attraverso do flamingo sappiamo che il frutto del diavolo ingerito da lo potrebbe donare l'eterna giovinezza e doffi aggiunge che grazie a quel potere e alle sue conoscenze sarebbe potuto diventare il re del mondo incredibile difatti noi sappiamo bene come l'opeope è considerato il frutto del diavolo definitivo appunto per questa sua caratteristica incredibile capiamo bene perché questo viene definito il frutto definitivo perché è vero che l'opeope può donare l'eterna giovinezza ma questo in cambio della morte del possessore del frutto stesso comunque successivamente ci spostiamo nella saga di zoo dove si riunisce con la sua ciurma lì capiamo ancora di più che il suo piano in realtà era quello esclusivamente di vendicarsi di do flamingo perché fu la causa della morte di corazon e quindi lui doveva compiere tale missione ad ogni costo anche a costo della sua stessa vita naturalmente lì a zoo che succede nasce un'alleanza fondamentale pirati samurai e ming questo per abbattere l'imperatore kaido naturalmente rufi inserisce lo ancora prima di chiedergli il permesso di tale alleanza passiamo ora a wano kuni naturalmente perché a walkie kailant lo non ci non era presente all'inizio della saga lo non riesce a portare in salvo rufi che si scontra con kai do e viene sconfitto questo perché perché interviene hawkins che ferma lo naturalmente ciò è stato positivo per tutto quello che poi è successo a udon come sapete no l'allenamento di rufi e la liberazione dei vari samurai che erano stati resi schiavi eccetera eccetera molto importante successivamente quando sanji si scontra con peggio a e lo batte a meno in parte anche se poi l'abbiamo rivisto peggio a onigashima e utilizza la red suite sit black infatti lo conosceva bene i fumetti della germa e soprattutto di sora il guerriero dei mari lo in seguito poi viene catturato al posto dei suoi sottoposti che vengono liberati ma poi lo stesso lo viene liberato da ds drake naturalmente era un piano perché lo si fa catturare innanzitutto per salvare i suoi sottoposti ma poi successivamente viene liberato da ds drake per chi lo sa meglio x drake così vi faccio contenti e questo a sua volta era un piano perché quest'ultimo fa parte della marina sward arriviamo al capitolo 977 e lo ci dimostra ancora una volta di essere un grandissimo stratega suggerendo lui il piano a kinemon per l'assalto ad onigashima difatti il piano di kinemon era fallito perché era stato scoperto da kanjiro che era la spia essendo kinemon in grande difficoltà e non avendo un piano di riserva viene salvato dalla sorte infatti per sua fortuna tra farga di waterloo aveva un piano abbastanza convincente come sempre di solito e che faceva faceva sia che fossero tutti i presenti divisi sui lati di onigashima cogliendoli da dietro questo perché perché rufi e kid avrebbero fatto da diversivo attaccando direttamente dall'entrata principale nel capitolo 996 mentre imperversa la guerra vediamolo al secondo piano sotterraneo di onigashima prima batte un headliner insomma molto simpatico ma poi raggiunge un pony glyph esso però non è quello rosso bensì blu la missione stealth stavolta è stata affidata al chirurgo della morte e vediamo un mini flashback dove lo ripensa una conversazione con nico robin dove appunto lo gli rilevò di avere l'addine nome e gli chiese se lei conosceva il significato di tale dicitura tuttavia robin è ed era ancora allo sculo di tale significato ma farà tutto il possibile per scoprirlo perché ne è interessato sempre in questo mini flashback robin gli disse che l'unico modo per scoprire tale significato era ottenere questi poneglyph rossi i rohad poneglyph e quindi l'unico modo era quello di scontrarsi contro gli imperatori tornati al presente del capitolo 996 lo si ritrova davanti a questo pony glyph e ripensa nuovamente alle parole di corazon la di il nemico naturale degli dei la nemes degli dei e mormora a se stesso corazon voglio sapere davvero qual è il significato del mio destino maledetto questo secondo noi implica che comunque lo dovrà arrivare almeno fino a fine opera per scoprire la verità e quindi chi lo vuole morto almeno dal nostro punto di vista dovrà arrendersi in questo senso e adesso passiamo al momento attuale alla guerra di onigashima lo si trova sul tetto a combattere contro kaido e big non fungendo d'aiuto soprattutto per rufi e zoro e dato i suoi poteri incredibili questi lo renderanno sicuramente una carta vincente in tal senso dalla battaglia contro gli imperatori ne derivano una teoria sui possibili avvenimenti futuri che potrebbero portare alla caduta di big man questa parte di teoria è collegata ad un nostro vecchio video di giugno del 2019 tra fargalo e la sconfitta di big man ammettendo che big man venga sconfitta adesso a onigashima crediamo che gli elementi fondamentali per abbattere big man siano due essenzialmente monkey d'hu e trafargar di waterloo adesso vi mostreremo le analogie tra la caduta di big man e lo ed un riferimento storico a napoleone buona parte prima conso ma poi imperatore di francia un primo riferimento è la similitudine del nome del cappello di big man ossia napoleon ma adesso passiamo alla storia vera e propria dell'ottocento e a quegli avvenimenti allora la prima battaglia persa da napoleone ea trafalgar contro la flotta inglese dell'ammiraglio nelson invece la disfatta definitiva di napoleone avvenne a waterloo in belgio quindi se uniamo napoleon ossia il cappello di big man e i luoghi delle due battaglie tra falgar e waterloo abbiamo pensato ad un rimando al nome completo di lo ossia trafalgar di waterloo e quindi siamo giunti alla conclusione che lo aiuterà rufi per la caduta degli imperatori ma nello specifico per la sconfitta di big man naturalmente è vero che i colpi che lo ha dato a caido e big man sembrano non aver sortito effetti ma non darei ciò per sicuro nel senso che essendo che i colpi di lo vanno ad intaccare il nemico dall'interno gli effetti si potrebbero sentire più avanti nella battaglia vedremo se sarà così oppure no vi ricordo che tutti questi riferimenti alla caduta di big man e degli imperatori in generale fanno parte di illazioni di un nostro vecchio video di due anni fa questo video è stato realizzato per ricordarvi a voi solo la verità cioè il ruolo fondamentale di lo all'interno della narrazione naturalmente ora diteci voi cosa ne pensate anche con un commento da sfogliatore e ricordatevi di passare dai nostri social facebook instagram e telegram le nostre collaborazioni di iscrivervi al nostro canale youtube e attivare la campanella per ogni eventualità e soprattutto ricordate che sono aperti gli abbonamenti quindi le varie sezioni i vari livelli decidete voi alla vostra discrezionalità rimetto decidere dove inserirvi un saluto dai massimi esperti di guampicinità che ancora una volta hanno portato solo la verità